Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore e benvenuti in questa prima puntata ufficiale della terza stagione perché appunto nella precedente puntata siamo arrivati nella terza stagione ma abbiamo visto veramente poco abbiamo fatto solo un piccolo resoconto sulla nostra squadra, quello che abbiamo già in casa e dove si dovrebbe teoricamente intervenire quest'oggi cercheremo di essere un po' più concreti con dei nomi effettivi da dover provare a prendere però ovviamente ragazzi le prime trattative non so se arriveranno già oggi però sicuramente i primi nomi ci saranno e come ma come al solito raga prima di incominciare a giocare vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi e anche a commentare qualsiasi vostro dubbio o consiglio per prestità e a seguirmi sulla pagina Instagram, il link del profilo è come sempre in descrizione e anche a sostenere il canale tramite una donazione grazie al link che si trova in descrizione detto ciò possiamo andare subito avanti ma purtroppo iniziamo con una bruttissima notizia quest'oggi perché bisogna sempre ricordarsi che noi stiamo giocando a FIFA e FIFA è un gioco veramente simpatico allora quando io ho spento l'ultima volta avevo cercato un sacco di nomi appunto ho messo tanti giocatori a seguire però come ho appunto detto nella scorsa puntata gli osservatori si erano buggati e infatti io li ho richiamati tutti e ho provato a rinviarli in questi paesi dove li mando sempre, ovviamente per Inghilterra, Spagna eccetera eccetera ma questo non è importante comunque ho seguito tantissima gente ma ovviamente non mi ha seguito nessuno, ok? qua c'erano 9 cristiani, non c'è nessuno qua c'erano 3 o 4 eccetera eccetera quindi FIFA è un gioco molto simpatico ecco mi ha salvato solamente Luca Pellegrini mo spiegatemi che me ne faccio di Pellegrini con tutto il cuore cioè tutta la gente che effettivamente mi serviva, che ho seguito adesso non c'è nessuno e io non mi metto a ricercare un'altra volta tutti i giocatori perché a parte che è passato un po' di tempo qualche giorno e non me li ricordo tutti quindi non lo so e poi col cavolo che mi rimetto a fare le cose che FIFA non sa fare quindi ci facciamo abbassare i giocatori che già ho nell'hub mercato e pace ragazzi perché purtroppo FIFA è uno schifo e quindi dobbiamo accontentarci ma detto ciò facciamo finta che non è successo nulla siamo sempre allegri e gioiosi e andiamo un po' nella nostra hub mercato allora come hai detto ragazzi allora nella scorsa puntata abbiamo visto un po' chi cedere e chi no alla fine abbiamo deciso che Ekuban si può mettere in vendita per provare a prendere un nuovo attaccante anche titolare Frendrup avendo la crescita bloccata avendo poi anche Gurnal con la crescita bloccata abbiamo deciso di mettere in vendita e poi andiamo a provare a prendere un nuovo centrocampista poi sempre al centrocampo anche se Demir verrà mandare in prestito sarà mandare in prestito e quindi addirittura servirebbero due centrocampisti centrali belli, pesanti e forti perché alla fine Perrone vorrei renderlo sostituto come detto sempre nella scorsa puntata poi sul mercato anche Semper un secondo portiere esperto si potrebbe prendere e già so tutto sommato chi prendere poi Aude anche lui in prestito insieme a Bamba e questo giovane Peters perché allora come direzione a sinistra abbiamo detto di volerne prendere uno nuovo bello, forte e possente e invece il difensore centrale deve essere un sostituto di Scalvini e invece questo Peters deve fare semplicemente esperienza quindi deve crescere in qualche altra squadra però ragazzi alla fine mi sono fatto un bellissimo conto e visto che comunque abbiamo 75 milioni messi a disposizione dalla società sono alla fine sempre pochi quindi ragazzi in pratica bisognerà fare attenzione anche sul come e quanto spendere bisognerà essere veramente precisi se vogliamo costruire una squadra degna di arrivare in Champions l'anno prossimo almeno si spera quindi ragazzi detto ciò i ruoli dove ci interesserebbe intervenire allora abbiamo detto che ci serve teoricamente un secondo portiere se parte sempre un portiere che potrebbe anche essere bello esperto in là con l'età che utilizzeremo solamente questa stagione almeno in teoria e che ci sarà utile per le partite europee e io sinceramente ho pensato a gente come Gulaksi che non costa molto ma secondo me quello perfetto per qualità prezzo è Sommer perché alla fine 35 anni è un 85 ha uno stipendio solamente di 25 mila euro a settimana e questa cosa che mi ha lasciato un attimo così perché appunto è poco per un 85 vale meno di 4 milioni e 8 sicuramente poi abbiamo anche Bauman che è svincolato però paradossalmente prende più di Sommer cioè fra 44 mila e 66 mila quindi vuol dire che vuole minimo un 50 mila quindi fra questi tre secondo me il migliore è Sommer perché si potrebbe prendere un portiere giovane tipo, non so, un Mayer anche uno Slonina qui o Slonina come si chiama però ragazzi sinceramente la carta del portiere esperto secondo me è la cosa migliore che poi ragazzi appunto visto che è esperto in lago con l'età cioè costa molto di più questo Mayer che è un 76 che Sommer che è un 85 quindi ragazzi sicuramente viene da sé qual è la scelta migliore visto appunto che dobbiamo utilizzare i soldi nel modo corretto visto che appunto sembrano tanti 75 milioni ma alla fine per quello che ho pensato io ci servono un minimo più di 100 milioni quindi raga sarà veramente complicato io penso che un ruolo sarà sacrificato nel senso c'è la possibilità che ci teniamo Gourna come prima scelta ci mettiamoci ad un centrocampista un po' più giovane che possa crescere e magari in prospettiva diventare più forte di Gourna appunto si potrebbe fare la stessa cosa con il terzino sinistro adesso vi mostrerò anche perché però andiamo con ordine ovviamente ragazzi allora i terzini destri non ci serve nessuno invece per i difensori centrali si potrebbe anche qui andare sulla pista esperta di Hummers però ragazzi visto che ci serve un sostituto secondo me un giocatore giovane potrebbe essere perfetto e io ho trovato Vitic che lo voglio prendere da non so quanti anni e secondo me è arrivato il momento giusto perché sta ancora allo Sparta Praga non costa tanto è già un 75 vicino a Viti Viti Vitic cioè raga cioè è la coppia perfetta per giocare in Europa League comunque sono due ottimi sostituti sia Viti che Vitic beh ragazzi bisogna prenderlo per forza e quindi direi che la scelta qua è già stata fatta poi un altro secondo me che era molto interessante è questo giovane ucraino Zabarni che non sapevo crescesse così pensavo che fosse un po' più nella media qui è andato al Wolverhampton sta crescendo bene è un ottimo giocatore però ragazzi Viti Vitic è troppo invitante poi ragazzi continuando andiamo a vedere i terzini sinistri qua c'è da discutere molto allora noi abbiamo Gerkech che è un 79 purtroppo la crescita è bloccata ecco perché FIFA è un gioco fantastico e quindi io avevo pensato di prendere un giocatore più forte di Gerkech e rendere l'ungherese un sostituto e infatti è quello che vorrei fare però ragazzi appunto ci ho ragionato su e ho visto che i soldi non è che sono tantissimi però nel caso non lo so arrivi qualche offerta rinunciabile per qualche nostro altro giocatore si potrebbe pensare di prendere un terzino più forte di Gerkech e infatti ragazzi la scelta sarebbe poi fra giocatori come Malasia che hanno 84 ma ha uno stipendio incommentabile poi c'è Nuno Mendes anche qui è andato al Newcastle è abbastanza imprendibile e poi ragazzi alla fine ho trovato Windal che qui è all'Ajax solamente 20.000 a settimana costa sui 40 milioni massimo 45 secondo me ci potrebbe stare ragazzi un giocatore che abbiamo preso con la Samp ragazzi è stato uno dei nostri primi acquisti all'epoca su FIFA 20 e sarebbe bello ritrovarlo qui al Genova visto che appunto Samp Genova è sempre un bellissimo parallelismo poi ci sono giocatori forse anche un po' più in lago con l'età ma comunque validi come questo Borna Sosa che è un 81 viene dal Monaco sicuramente esperto quindi ci potrebbe stare guadagnerebbe qualche punticino quindi si potrebbe ragionare pure in quest'ottica cioè tu puoi ragionare anche nell'ottica che appunto l'anno prossimo provi a prenderti in un altro però ragazzi la mia scelta numero uno era in capie però ragazzi in capie non si priveranno di questo giocatore lui era perfetto perché 22 anni erano 82 è a Ren quindi ragazzi era la perfezione assoluta però purtroppo non si priveranno poi ragazzi effettivamente sono andato anche a controllare nel Ren hanno appunto solamente lui come terzino sinistro hanno due terzini destri ma solo un terzino sinistro si potrebbe sperare che diciamo durante il mercato in capie diventi raggiungibile quindi si potrebbe prendere ma non so ragazzi se è una cosa possibile però lui era la mia scelta vi dico diciamo la sincera verità poi infine abbiamo giocatori come Raumo però ragazzi 84 anche lui c'è sarebbe una spesa bella dispendiosa per esempio se lui costasse meno del suo valore no? dico lui come anche Cogliate sarebbe stata la stessa cosa l'aveva preso subito perché appunto vale 45 milioni ma bisogna offrire minimo 54 quindi sarebbe una spesa pesante stessa cosa Weindal tutto sommato si potrebbe fare comunque stessa cosa per Nuno Mendes e anche ovviamente per Malasia Alfonso Davis non ve lo dico proprio oppure ragazzi stavo pensando se è infattibile prendere appunto giocatori come anche Weindal si potrebbe pensare di prendere Udoji vale 20 milioni anche meno secondo me te lo riporti in Italia te lo fai crescere e sicuramente durante l'anno ti diventano 80 e ti supera tranquillamente Kerkic però raga non lo so ecco dipenderà molto dalle cessioni ragazzi e da eventuali offerte perché ragazzi può essere pure che arriva tipo una offerte rinunciabile però ragazzi ovviamente la carta Udoji è sicuramente interessante un altro giocatore italiano però il fatto che viene dal Tottenham giocherebbe nel Tottenham alla fine è un 78 quindi penso che il Tottenham abbia giocatori più forti purtroppo ragazzi avevo messo a seguire anche giocatori non lo so come Matteo Oliveira Ryan Sessegnon mi ricordo Etnori però purtroppo FIFA è un gioco spettacolare e quindi non mi stancherò mai di dirlo comunque passiamo al centrocampo centrocampo che ci vede in una situazione abbastanza particolare allora teoricamente ci serve un centrocampista sul centrodestra e uno sul centrosinistra allora ragazzi anche qua si può fare ovviamente lo stesso ragionamento fatto adesso con Udoji perché appunto si potrebbe pensare di tenere Grunat come titolare oppure appunto si potrebbe prendere un giocatore che nel giro di poco tempo ti supera Grunat ecco per esempio Miretti ci potrebbe stare qui è prestato al Monza ma il prestito se non sbaglio scade adesso quindi se vado un giorno avanti dovrebbe tornare alla Juventus sicuramente però tornando alla Juve verrebbe a costare un sacco esattamente come Rovella che si vale sui 50 milioni però appunto ha uno stipendio di 97 mila quindi è un problema diciamo che Rovella sarebbe stato perfetto perché appunto è già stato al Genova quindi proprio la perfezione assoluta ma purtroppo hanno questi stipendi incommentabili solamente perché tornano dei prestiti comunque ragazzi allora se riusciamo sempre a fare quella cosa di avere i giocatori veramente forti Enzo Fernandez sarebbe stato il giocatore perfetto perché ragazzi cioè è verde in tutto solamente perché diciamo è abbastanza basso non è altissimo ha precisione testa 69 per il resto ha tutto verde cioè ragazzi questo qua è un mostro lo puoi mettere in qualsiasi posizione poi abbiamo giocatori come che frinturano francese dell'offenheim sui 40 milioni verrebbe via lui sicuramente ottimo acquisto l'abbiamo già utilizzato in passato ma diciamo che non crebbe tantissimo è italiano penso di sì comunque non è cresciuto tanto nella carriera che lo prendemmo all'epoca con Napoli soffriva 21 quindi ci potrebbe stare sicuramente al posto di Grunat sarebbe perfetto perché anche lui ha caratteristiche di contenimento poi ragazzi lui può fare tutto cioè ragazzi è un mostro continuando abbiamo giocatori come Davidino Frattesi che ci potrebbe stare anche lui dal Sassuolo però già è stato importante l'anno scorso non lo so da prendere poi come riserva di Grunat giocatori come Matazzo anche lui molto interessante potrebbe crescere tranquillamente e poi abbiamo questo Sevald ragazzi Sevald sarebbe ottimo ragazzi 30 milioni e verrebbe via è un giocatore che non conoscevo dal Ghent qua ci sarebbe secondo me tantissimo originalità perché ecco io purtroppo ho un difetto non guardo le altre carriere online cioè ragazzi non mi metto a guardare altra gente a parte tiz è l'unico che guardo è tiz però io la carriera la guardo quando è finita cioè mi piace guardarla one shot tutto in una botta ma questo è un altro discorso comunque ragazzi io questo giocatore non l'ho mai sentito ma è ovvio che arriva questo qua lo conoscevo già stava qua l'ha preso questo l'ha preso quell'altro però ragazzi non possiamo metterci a pensare queste cose perché alla fine lasciano il tempo che trovano ovviamente e quindi visto che stavo spaccando il pad visto che non sono paragonabili a nessuno visto che ragazzi gli altri nomi che mi fate sono gente famosissima quindi non mi posso ovviamente paragonare comunque ragazzi lui a parte tutto ci starebbe bene poi continuando ragazzi sulla sinistra c'è Kenneth Taylor che è un 78 però sulla sinistra ragazzi sulla sinistra il colpo importante sinceramente vorrei provare a farlo perché ho visto che abbiamo ragazzi abbiamo ecco qui Copminers dalla Tanta che ha il prezzo bloccatissimo 37 milioni e verrebbe via anche a molto meno secondo me a 26 anni però in 84 si potrebbe fare la stessa cosa che abbiamo fatto l'anno scorso con Pessina vi ricordate col Sassuolo che ci prendemmo Pessina per l'Europa League ecco Copminers sarebbe perfetto ma anche l'ha posto un altro giocatore dall'Atalanta ma lui è anche più forte rispetto a Pessina probabilmente un giocatore che potrebbe rivelarsi fondamentale a dir poco perché appunto è un 84 l'Atalanta l'anno scorso ha finito il campionato settima se non ricordo male quindi loro paradossalmente sono in conference quindi ragazzi ci potrebbe stare un trasferimento di Copminers quindi raga secondo me lui è perfetto poi abbiamo altri giocatori come ecco questo Conee dalla Roma mi sembra veramente forte anche lui mi ispira tanto vedremo un po' come si evolverà la situazione fondamentalmente questo è si raga effettivamente a sinistra c'era solamente Copminers però ovviamente stavo seguendo altra gente come Pobega soprattutto ragazzi Pobega è quello che mi è venuto subito in mente appena ho visto che non c'erano più i giocatori osservati Tommaso Pobega che appunto non stiamo seguendo ecco là stava scritto che lo stava seguendo ancora però non c'era nessuno ti prego FIFA ti prego funziona per una volta non è possibile che ogni anno c'è qualcosa che deve sabotarmi tutto comunque torniamo nell'hub mercato ragazzi tutta la puntata sarà principalmente questa fondamentalmente adesso dobbiamo vedere solamente per gli attaccanti perché con le ali siamo apposti C.O.C. non ci interessa perché abbiamo detto di voler mantenere sia Guler che Scott e invece ragazzi per quanto riguarda la punta vorrei prendere una qui sì ragazzi questo qui è quello là che ci fece tripletta quando appunto abbiamo giocato contro il Monza quindi l'ho messo solamente per prenderlo un giorno e riuscirgli il contratto comunque ragazzi abbiamo Kalimuendo sempre molto interessante ma già utilizzato l'anno scorso con l'Uni ecco ragazzi abbiamo Guari allora secondo me lui è un giocatore che io amerei alla follia cioè quel giocatore che io cioè metto palla a terra correre arriva in porta segna goal cioè quindi sarebbe perfetto per come gioco io però appunto è un 83 costa abbastanza non so se possiamo già arrivarci io avevo visto sinceramente un altro giocatore che mi ispira tanto questo Facundo Farias che ha caratteristiche molto simili a Guari anzi addirittura è pure più basso è solamente 1,71 però è un numero 9 è velocissimo ha ottime statistiche sembra essere un animale questo ragazzi secondo me lui è giocatore adatto a noi lo seguo dall'inizio è cresciuto è all'ertabellino è diventato un 80 ha ancora 21 anni ha solamente 21 anni raga secondo me lui deve essere la prima scelta comunque è la mia prima scelta soprattutto perché non è che costa tantissimo cioè sui 30 35 milioni dovrebbe venire via poi ragazzi ci sono giocatori più forti Cugna De Keteler abbiamo vabbè un giuato pedo che ci potrebbe sempre star bene col prezzo bloccatissimo però è andato a Chelsea quindi è uno stipendio animalesco Julian Alvarez 150 mila settimane sta bene là vabbè Vlaovic e Martinez fuori portata Adeyemi ragazzi Adeyemi non posso non considerarlo perché ragazzi è un giocatore che amo alla follia una volta mi è arrivato a 95 sempre in quella famosissima carriera fatta Zofilo 21 con l'Arrogate Adeyemi appunto è sempre un giocatore da tenere in considerazione abbiamo anche Armando Broly che qui sta al sassuolo però lui è un giocatore che forse non è adatto al mio gioco è abbastanza lento potrebbe essere un po' un tronchettino per così dire però comunque resta un ottimo giocatore 22 anni è già un 81 quindi sarei stupido non considerarlo poi per concludere abbiamo Wai anche lui già utilizzato con l'Uni l'anno scorso Osimene fuori portata e Ekitike è un altro che potrebbe essere interessante è ancora a Ren non ha uno stipendio assurdo però se devo prendere Ekitike sinceramente dalle statistiche mi ispira di più Farias anche se probabilmente Ekitike cresce di più però ragazzi dobbiamo anche utilizzarli in campo i giocatori quindi serve anche l'efficienza efficienza che potrebbe darmi tranquillamente anche lui però allo stesso tempo preferisco Farias comunque diciamo istinto pure no poi abbiamo anche altri due che sono interessanti ovviamente Santiago Jimenez Dal Feyenoord lui mi ispira già meno e poi Rutter Rutter che è anche simile a Farias lui è sicuramente un ottimo giocatore qui è andato alla Lazio gli hanno dato anche il numero 10 quindi sicuramente un giocatore forte e fondamentalmente questo è ragazzi 20 minuti sono solamente a spiegarvi questo e diciamo che era l'obiettivo principale della puntata adesso un altro obiettivo è sbaggare gli osservatori nella speranza che riesca ad avere tutti i resoconti soprattutto facciamo passare un giorno che è sempre molto importante perché si sbloccano i prestiti dopo un giorno vediamo si sono sbloccati probabilmente sì comunque arriva subito la prima offerta Francoforte su Friend Group solamente 13 milioni mi aspetterei qualcosina in più sinceramente da Friend Group proviamo a trattare e ad alzare sui 17 18 vediamo chiaramente ragazzi più soldi si incassano meglio è ci mancherebbe altro 18 milioni di euro vediamo un po' accettati subito forse poteva alzare pure a 20 ma sinceramente 18 milioni non mi siano pochi allora vediamo un attimo una piccola cosa se si è sbloccato qualche prestito qualcosa vediamo vediamo Bauman è ancora svincolato ma penso di andare più su sommere sinceramente comunque allora vediamo 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 allora mi interessava vedere innanzitutto se in capire è tutto a posto nel senso se il Ren magari può essere che abbia acquistato non lo so un nuovo terzino così lo posso prendere purtroppo però voglio vedere Miretti se Miretti è tornato alla Juve anche se no ragazzi è ancora al Monza ma quanti anni di prestito hanno fatto comunque attenzione subito qua allora Lione su Guari va bene ci posso stare Real Madrid su Meso Mount Chelsea su Osimena sono cose che a noi non interessano attualmente forse forse Guari ma no ragazzi tutto sommato forse era troppo per le nostre possibilità comunque altre tre mail ancora interessi sì Ilie che non conosco Ilie forse vabbè comunque Malasia Lipsia Friend Group già subito venduto così primo centrocampista è volato quindi vuol dire che bisognerebbe già intervenire eccolo qua il buon Friend Group che parte è stato un giocatore sicuramente importante se non si fosse bloccato penso che era ancora il nostro sostituto cioè ragazzi se non ci fossero i blocchi dei giocatori stavamo a posto perché Gurnard continuava a crescere Friend Group continuava a crescere e quindi restava come sostituto purtroppo ragazzi a causa di questi blocchi no dei giocatori ci stanno becottando tutto no prestito per casa dei mi costringono a considerarlo comunque ragazzi allora Bamba Brentford mi sembra molto interessante trattiamo no ho sbagliato ho sbagliato non devo mai fare tratta non devo mai fare tratta niente non posso fare nulla sono stupido proprio vediamo un po' se mi accettano senza il diritto di riscatto ovviamente no purtroppo figo funziona così sono tre anni che è così ma non aggiusteranno mai questa cosa devo fare delega purtroppo sono stupido se fai delega accettano se fai tratta non accettano purtroppo si vede che non sono pratico con i prestiti i Brentford erano un'ottima destinazione ma speriamo che arrivino altre offerte interessanti ecco ragazzi casa dei io nella scorsa puntata ho detto di non volerlo mandare in prestito perché come dico sempre anche la terza scelta è importante lo so ragazzi lui ha il potenziale per diventare speciale non giocherà tanto con noi ma allo stesso tempo voglio tenerlo con me perché se lo mando in prestito passa un mese ed è già un 70 72 si sa come funziona fiva con i potenziali tutti pagati quindi io diciamo voglio restare fedele alla mia idea di avere anche la terza scelta quindi rifiuto e quindi ragazzi allora 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 hub mercato lo proviamo a prendere questo centrocampista così iniziamo subito a scaldarci un attimo però prima di fare qualsiasi cosa finanze 89 milioni abbiamo attualmente benissimo se potrebbe prendere il centrocampista però io starò con la paura di non poterlo prendere raga però sapete che farei più che prendere il centrocampista sulla destra io proverei a prendere effettivamente copminers ragazzi perché secondo me copminers col prezzo bloccato va preso subito quindi ragazzi io direi di buttarci già subito sul buon vecchio sul buon vecchio sai va al destro bene bene comunque direi di buttarci subito su copminers se lo trovo anche se vorrei aspettare giocatori come pobega e altra gente però se non si è sbloccato io qua non mi muovo adesso si è sbloccato vediamo si ma si è sbloccato o no si ma fifa mi prende in giro e si ragazzi ma i giocatori che ho seguito io non ci sono io qua avevo seguito sesegnon non c'è sesegnon raga non va bene qua c'è solamente pobega ma perché l'ho messo io va ora no ragazzi quelli che ho scelto di seguire io effettivamente non ci sono adesso aspetto per pobega fatemi vedere quanto costa così già no ancora non si sa lo metto nel dubbio in lista così ragazzi non ce lo facciamo sfuggire qua non c'è nessuno qua ce n'erano più di dieci non c'è nessuno ragazzi è tutto buggato ovviamente ma che ve lo dico a fare quindi ragazzi sapete che vi dico io andrei sull'austriaco cioè ma proprio tranquillamente perché altrimenti la scelta sulla destra sarebbe stata eh ragazzi cioè io vorrei Enzo Fernandez ma non posso spendere 70 milioni per Fernandez cioè pure se ne spendo 50 è buono però ragazzi non lo so ho paura ho paura di spendere troppo cioè il problema è semplicemente questo secondo me abbiamo detto che vogliamo i giocatori sull'80 beh dobbiamo prenderci quei giocatori che sono sì già sull'80 ma che in prospettiva a fine anno sono sull'85 e sinceramente questo Seivald sembra essere proprio un giocatore così però ragazzi sta ancora al Ghente è perfetto fatemi vedere le statistiche che diciamo avendole visto prima mi sembravano effettivamente molto interessanti cc cdc anche lui quindi è il classico giocatore dei piedi buoni che se si è allenato bene potrebbe anche diventare un giocatore da inserimento per così dire secondo me è perfetto cioè è ottimo un giocatore ho fatto sbagliare il cane con il bacetto scusa Cagnolino comunque allora ma ragazzi facciamo un'offertina vediamo un po' quanto ci chiede il Ghent secondo me non tanto io partirei però ovviamente estremamente basso ma proprio più basso non si può 25 milioni di euro e 39 ma tu devi stare calmo facciamo 28 la tensione è un po' salita sono fermi su 39 non sono d'accordo è già troppo dal mio punto di vista facciamo 30 cifra tonda tonda ovvero quanto costa che già andrebbe bene 30 milioni tempo hanno bisogno di tempo ti pareva quindi ragazzi abbiamo perso tempo però allo stesso modo proverei a fare qualche altra offertina per esempio ragazzi io qui proverei innanzitutto con Frattesi che secondo me a 40 milioni viene via Frattesi vediamo 40 milioni Frattesi ma là stava scritto che ne volevano molto di meno ma FIFA è molto incoerente con se stesso facciamo 45 sono già troppi no ragazzi lasciamo perdere grazie FIFA per ingannarci pure sei sempre molto gentile lì stava scritto c'era 49 milioni ed era nostro quindi figurati comunque allora facciamo la stessa cosa volevo farla pure per Rovella però da un giorno all'altro si è persa l'osservazione grazie FIFA come sempre comunque dove sono dove sono dove sono dove sono eccoci qua Taylor diventa uno 79 bravo Taylor e sicuramente sarebbe da considerare anche lui l'abbiamo già utilizzato l'anno scorso con lo Shaq 04 sappiamo che crescerà perché diventerà minimo un 81 82 per Rone potrebbe restare a fare il sostituto però ragazzi Copminers è molto invitante qua sta scritto che ne vogliono cioè si parte dai 32 però boh è vero a sto punto non posso manco credere a FIFA a sto punto qui è andata addirittura al Montpellier quindi boh potrebbe essere fattibile facciamo un'offertina a Che Friend to Ram già sto perdendo troppo tempo e sto parlando a Bambra devo finire il video perché dura troppo comunque 30 milioni Che Friend to Ram vediamo l'impressione che stiamo perdendo tempo va benissimo effettivamente è vero stiamo perdendo tempo perché FIFA è un gioco che odio a morte non mi fa capire me nulla è tutto emblematico comunque ragazzi fermiamoci qua per il momento la cosa che mi importava di più oggi è mostrarvi tutti i nomi e mostrarvi soprattutto che non posso seguire i giocatori perché FIFA fa schifo perché FIFA a volte ha dei bug così la scuola d'Orton acquista Wendall e quando me lo dicono ma ragazzi stava all'Ajax non mi è arrivata nessuna mail no devo vedere devo vedere fai vedere vedi vedi il giocatore cioè stava in lista perché non mi è arrivato interesse l'avevano già preso l'anno scorso qual è il problema fatemi capire cioè ragazzi manco più l'interesse mi ha scritto ma se l'avevano già preso mi usciva scritto no ragazzi la sua richiesta no ragazzi è andato al Dortmund è del Dortmund sta al Dortmund non mi è uscito scritto devo bruciare il disco di gioco devo bruciarlo è inutile non sanno fare niente e quindi ragazzi dopo questa chicca finale direi che possiamo chiudere alla grande proprio come al solito vi invito a lasciare un mi piace iscrivetevi al canale e a seguirmi sulla pagina Instagram e a sostenere il canale tramite una donazione noi ci vediamo alla prossima e ciao a tutti 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 ciao a tutti